Salve a tutti gente, sono ritornato sempre con nuovi animali di cui parlare. Oggi gente si parla dei serpenti costrittori. Sì, avete capito bene, si tratta dei serpenti non velenosi, che sicuramente ne avrete paura. Iniziamo subito. Come sicuramente saprete, i serpenti costrittori sono quei serpenti che non uccidono col veleno e che stritolano le loro prede e le ingoiano tutte intere. Oggi scoprirete come fanno ad ingoiarli intere e soprattutto come fanno a digerirle. Qua potete vedere un pitone che ingoia intera la sua preda mentre la stritola. Mo' scopriremo perchè. Passiamo a classificare e a descrivere per bene i serpenti costrittori. I serpenti di questo genere sono soprattutto boa, pitoni e anaconde. Ne esistono diverse specie e la maggior parte può raggiungere, è lunga di solito dai 4 ai 5 metri. Ma la specie più grande, cioè più lunga, che sarebbe anche il serpente più lungo del mondo, è il pitone reticolato, malaiopiton reticulatus, che può raggiungere i 6 metri di lunghezza. Ma non è tutto. C'è anche il serpente più pesante e massiccio al mondo. Cioè l'anaconda verde è un ectes murinus, che può raggiungere i 90 kg di peso, a volte anche un quintale, gli esemplari più grossi. Ma in giro si pensa che l'anaconda possa essere lunga anche fino a 10 metri, ovvero quanto un autobus, vista come una specie di mostro lungo quanto un autobus. Ovviamente non è vero niente. Come abbiamo già detto, il serpente più lungo al mondo è il pitone reticolato. Oh, l'anaconda è soltanto il serpente più pesante al mondo. La maggior parte dei serpenti costrittori, sì, fanno la muta alla pelle e la cambiano. E ce l'hanno sempre, quasi sempre di colore bruno, con macchie brune, ma sempre più scure. Ma talvolta esistono dei pitoni completamente gialli, che sembrerebbero essere albini. Non so se ve l'ho spiegato nel video dell'albinismo dopo tutto questo tempo, ma sì, sicuramente sarà possibile che questi pitoni siano albini. Si vede anche dagli occhi rossi. E adesso parliamo di come fanno i serpenti costrittori ad uccidere e a ingoiare le loro prede completamente intere. La maggior parte dei serpenti costrittori caccia prede di grosse dimensioni e spesso si avvicinano senza farsi vedere, ed è il caso dell'anaconda. Poi assesta un morso bendato, di cui parleremo più avanti. Poi lo butta a terra e lo stritola. Poi riesce ad ingoiarlo tutto intero, ma ci vuole del tempo, perché la mandibola, come in tutti i serpenti, è deformabile e slegata dalla mascella. E ha anche la pelle molto elastica, che permette al serpente di ingoiare la preda tutta intera. Una volta ingoiata l'intera preda, il serpente avrà bisogno di cacciare per sbariate settimane, poiché gli acidi gastrici di questi serpenti sembrano essere piuttosto potenti e di solito riescono a digerire soprattutto le ossa, un po' come fanno le iene. Comunque ci mettono diverse settimane a digerire le prede e lasciano grandi quantità di feci o, in certi casi, di borre gastriche, se lasciano le parti indigeribili come peli e ossa. Quindi un serpente costrittore come un pitone extra large o un'anaconda gigante, possono ingoiare e digerire qualunque tipo di animale. E' capitato che questi animali, tenuti dentro casa, abbiano attaccato delle persone e soprattutto dei bambini. Sembra una cosa brutale, ma non è certo dovuta alla cattiveria. Ricordatevi che sono dei grandi predatori e che oltretutto sembrano essere più pericolosi i serpenti velenosi che questi qua. Adesso parliamo della dentatura di questi serpenti. Nonostante i serpenti costrittori non siano velenosi, hanno comunque una dentatura che potrebbe spaventarvi. Allora, qui avete un'anatomia delle quattro dentizioni di denti che forse conoscete. La dentizione di questi serpenti si chiama dentizione a glifa, poiché non sono presenti zanne velenifere e non si tratta quasi mai di specie velenose per l'uomo, che sono denti a punti classici ma assolutamente non sono fatti per masticare. Poi abbiamo la dentizione opistoglifa, in cui la zanna velenifera si trova in fondo alla mascella. Anche questi serpenti generalmente non sono pericolosi per l'uomo. Poi la dentizione a glifa è tipica di questi serpenti qua costrittori. La dentizione opistoglifa è tipica di alcune specie di colubri che si trovano in Italia. Poi la dentizione proteroglifa, tipica dei serpenti della famiglia degli elapiti, quindi cobra e mamba, in cui la zanna velenifera rimane fissa ed sono sempre scanalate le zanne velenifere. Poi la dentizione solnoglifa, tipica dei serpenti assonagli e soprattutto delle bipere, in cui le zanne velenifere sono un po' più curve e vengono proiettate in avanti al momento del morso. Adesso parliamo di alcune cose che cacciano, di alcuni animali che cacciano i serpenti costrittori. Possono cacciare, sì, qualunque tipo di animale, ma anche caimani, che ho già spiegato nel video dedicato al caimano comune, e i jaguari, ma sono piuttosto rari i serpenti costrittori che cacciano altri grandi predatori. Un'ultima cosa, per quanto riguarda la riproduzione, i serpenti costrittori di solito non depongono uova, ma partoriscono figli vivi, perché molti altri rettili, pesci, eccetera, partoriscono figli vivi, ma nonostante ciò non sono presenti i cure parentali. Le cure parentali sono presenti soltanto nei coccodrilli, per quanto riguarda i rettili. Quindi alla nascita i piccoli serpenti costrittori sono già in grado di badare a se stessi, eccetera. Beh ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, a presto! Grazie!